gentili telespettatori buona giornata la si i4 è un'altra nave che ha cominciato a fare delle operazioni di soccorso nel mediterraneo c'erano parecchie navi che erano ferme perché non sapevano che andava a succedere problemi con le regole di piante dosi confische sequestri multe molte navi 15 su 17 erano ferme si muovevano solo due la geo barenz e la ocean viking invece oggi sono ripartite anche tutte le altre navi gran parte delle altre navi perché hanno capito che i decreti quelli piante dosi quelli fatti a gennaio non servono assolutamente a niente anzi l'unica novità positiva per le ong che ti danno subito un porto di sbarco mentre il fatto che ti mandano a sbarcare il più lontano possibile non fa parte delle regole ma è una cosa che ha deciso il governo in queste settimane che è l'unica cosa che è riuscita a rallentare gli sbarchi delle ong perché mandano le navi il più lontano possibile però no per la si i4 viene cambiato il porto da pesaro a napoli più vicino quindi gli si dà anche un certo vantaggio di sbarcare prima e più velocemente possibile ma anche qui anche la si i4 ha probabilmente violato il decreto il decreto legge italiano perché ha fatto più interventi quindi ha salvato in diverse occasioni in diversi punti più persone pertanto la nave viaggia oggi con 109 migranti dopo due interventi l'ong aveva ottenuto lo sbarco a pesaro poi la modifica e la rotta verso napoli sta navigando verso nord sono stati poi non sono state fornite ulteriori informazioni quindi non è chiaro se i due i due diversi interventi si trattano di appunto di qualcosa si tratta di qualcosa coordinato con le autorità italiane o se invece le operazioni siano state eseguite in contrasto con il decreto di matteo piantedosi o meglio il decreto del governo quel che però è certo che in un primo momento è stato assegnato il porto di pesaro sul versante adriatico poi la ong ha protestato successivamente nella tarda serata di ieri c'è stato un cambiamento di programma a rivelarlo è stato il sindaco di pesaro matteo ricci uno dei più critici contro il governo per l'assegnazione del porto della sua città la nave della ong eravamo e rimaniamo pronti per un'accoglienza seria diffusa spero che abbiano deciso di far attraccare la nave in un porto più vicino e sicuro è così infatti porto più vicino e sicuro è stato visto che anche pesaro senza dice risulta essere un porto sicuro dice il sindaco non è stato dichiarato ufficialmente quale sia il porto scelto in alternativa a quello di pesaro si sta facendo stanno facendo rotta verso napoli ma non è neanche sicuro che sia napoli non lo dicono prima per evitare che i sindaci poi comincino a lamentarsi ecco intanto una scelta probabilmente dettata dal netto pergiornamento delle condizioni meteo marine dei prossimi giorni ma le considerazioni sono se ne possono fare diverse proprio l'europa ha detto che i decreti questo decreto ong andrebbe cancellato e questo modo di fare di mandare le navi il più lontano possibile dovrebbe essere rivisto e poi gli accordi con la libia che sta cercando di fare la meloni andrebbero cancellati anche quelli quindi c'è un'europa che sotto un certo aspetto sembrerebbe andare incontro alla meloni adesso parliamo vediamo però poi c'è la stessa europa che dice l'opposto ecco solo pochi giorni fa la meloni aveva dichiarato le ong vogliono stare anche settimane davanti alle coste africane aspettando di riempire la nave e la vogliono portare al porto che loro ritengono si configura più un servizio di traghetto che come un salvataggio e ieri durante la conferenza a berlino con Olaf Scholz la meloni ribadisce il tema dei profughi e il tema della migrazione sono materie diverse in questi anni sul fronte sud delle due cose si sono sovrapposte e questo fa sì che nella stragrande maggioranza dei casi chi arriva in italia non ha diritto a nessun tipo di protezione umanitaria sono semplicemente persone che cercano una vita migliore ma non sono profughi quindi spesso si parla di profughi ma il profugo è una cosa e il migrante economico quello che fa un viaggio per in clandestinità per entrare in un altro stato e cercare una vita migliore i due il cancelliere tedesco e la meloni sono trovati d'accordo nell'individuare una strategia comune europea per il contrasto delle migrazioni irregolari a tutela dei confini sì ma il cancelliere dice comunque non siamo d'accordo su blocchi navali quindi la meloni è andata lì dicendo voi ci siete a fare una missione navale per fare un blocco navale e Scholz ha fatto capire che abbiamo visioni differenti sull'argomento come dire no perché no se lo propone l'europa Scholz direbbe sì ma dire di sia la meloni probabilmente ha paura di essere additato come uno che segue i cattivi no perché la sinistra ha descritto il governo attuale in carica come quello dei cattivi quello dei quasi dittatori sono tornati dopo 75 anni sono tornati ecco pertanto capite anche le resistenze del cancelliere tedesco che dice se do troppa corda poi dicono che sono come loro è che siamo come loro pertanto c'è una sorta di distanza a prescindere a priori telefonata ecco una distanza telefonata proprio per questo motivo quindi l'europa si è lamentata e alla nave viene cambiato il porto non credo che sia per le condizioni meteo perché anche le altre ong che hanno sbarcato nei giorni scorsi avevano le stesse identiche condizioni meteo pertanto su questo si può aprire un discorso molto più ampio l'importante sono poi i risultati che dovrebbero arrivare fra qualche mese sta di fatto che oggi gennaio che si è appena chiuso il risultato il mese con più sbarchi da sette anni a questa parte quindi la meloni sta lavorando per fermare l'immigrazione clandestina però la riuscita non è scontata da come sta andando questi primi mesi si sta muovendo ma gli ostacoli sembrano quasi insormontabili grazie a tutti e arrivederci a presto